Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Sabato 29 ottobre, sabato prossimo, riaprono i negozi d'intimo di Arezzo chiusi dallo scorso mese di maggio. Si chiude quindi una vicenda che da alcuni mesi era salita alla ribalta delle cronache e che adesso ha trovato la sua conclusione. Visita Lampo in questo fine settimana di padre Miguel Angel Contrerasa a Castiglion Fiorentino, religioso e responsabile a Lima e in Perù di alcune missioni, a cui l'associazione castiglionese Solidarietà in Buone Mani collabora, sostenendo le iniziative della tazza di latte e le adozioni a distanza. In tutto il Perù l'associazione guidata da Don Giuliano Faralli sostiene 500 tazze di latte al giorno e 150 adozioni. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Mario Agnelli presente all'incontro. Accolta la richiesta del città di Castello, il derby con l'Arezzo si giocherà sabato prossimo allo stadio Bernicchi con inizio alle 15, quindi non domenica ma sabato, calcio ad inizio alle 15. La Lega Nazionale di Lettanti ha dato lo che è definitivo. Sono 600 i biglietti a disposizione dei tifosi amaranto che, come presumibile, andranno in gran numero a città di Castello. Queste erano le nostre breaking news.